dunque in questa quasi ora e mezza questa volta che ci rimane come dicevo proviamo a prendere questo esercizio che si chiama react score per cui troverete poi la soluzione che implementiamo in aula nel repository del cui avete scaricato e poi ci sarà anche una soluzione generale sui tre corsi che sarà magari levemente diversa ma tutto sommato che assomiglia a questa qui e cosa faremo in questa ora e mezza cerchiamo di come dicevo prima cerchiamo di definire cosa secondo noi è meglio mettere dentro componenti quanti componenti facciamo quanti file facciamo e poi che props passiamo ai vari componenti ed eventualmente iniziamo almeno a predisporre lo stato da qualche parte allora prima di iniziare a appunto a ragionare sui componenti fatemi riempire questo fake exams e con i dati di questa tabella e così ce l'abbiamo pronta allora mettiamo questi quattro esami che sono qui e usiamo la stessa struttura che abbiamo usato all'epoca quando abbiamo fatto appunto il libretto degli esami quindi un oggetto javascript che ha un codice corso course code anzi chiamolo solo code che information system security me lo sono scritto è 01 tymov e poi score perché non c'era il nome memorizzato all'epoca score 28 e questo può essere un numero data ecco data perché no usiamo djs quindi fermiamo questo e facciamo npm install djs possiamo utilizzarla l'abbiamo già usata sappiamo come si va usiamola quindi adesso l'installiamo con npm install come abbiamo fatto in node e poi l'importiamo poi rifacciamo quindi l'importiamo e quindi import djs 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 esattamente come facevamo in node solo che invece scrivere require scriviamo import quindi date è un oggetto djs che costruiamo a partire dalla stringa 2021 0 3 0 1 poi altro esame fatemi copiare incollare questo così facciamo prima forse abbiamo quattro abbiamo detto ecco qua quindi data science data science è 0 1 sq j o v e il voto è 29 e la data è il 3 giugno sarà futuro sarà nel futuro il terzo esame software engineering che come codice dovrebbe avere o comunque non importa ma 0 4 g s p o v e il voto era 18 siamo andati male a software engineering maggio 24 e infine web application che è 0 1 tx y o v e siamo andati così così a web application 24 e il 21 giugno ora siccome noi servono anche i nomi degli esami necessariamente avremo bisogno di anche un fake courses in questo momento che avrà tutti i corsi che dovremmo fare ma noi adesso non scriviamo tutti scriviamo questi quattro che ci servono quindi codice quindi codice il primo e nome abbiamo detto information system security poi facciamo così copiamo e incolliamo questi poi codice secondo nome abbiamo detto data science e database technology il terzo abbiamo detto essere software engineering e il quarto web application ok poi potremmo anche averne un quinto eh perché a un certo punto un esame che dobbiamo fare non lo so per esempio 0 2 l se o v dovrebbe essere computer architecture dove ovviamente poi queste informazioni non le avremmo embeddate dentro il file javascript di react come l'abbiamo in questo caso nel mondo vero diciamo a un certo punto anche nel corso ma li leggeremo da un server che ci dirà tutti i corsi che abbiamo nel nostro carico didattico che saranno diversi perché magari uno segue l'orientamento grafica uno segue l'orientamento reti uno segue l'orientamento software eccetera e poi gli esami che abbiamo fatto che ovviamente saranno quelli che noi attraverso l'applicazione potremmo cambiare perché i corsi una volta che sono nel carico possono darceli l'università per esempio mentre gli esami sono quelli che vengono cambiati più frequentemente diciamo perché il carico l'ho fatto una volta all'anno l'esame invece capita più frequentemente durante l'anno quindi adesso l'abbiamo messi qui l'abbiamo chiamato fake exams e fake courses perché appunto li imbediamo qui in maniera temporanea poi sappiamo che a un certo punto l'applicazione React partirà senza queste informazioni e chiederà queste informazioni a un server e appena avrà queste informazioni dal server potrà renderizzare correttamente tutto quindi salviamo questo quindi questo elenco dei corsi dovrebbe essere molto più lungo di questi cinque ma a noi tanto ne servono quattro e a questo punto prendiamo questa cosa qui e chiediamoci e io lo chiedo a voi quali componenti vogliamo fare di questa roba qui no? facciamo un po' di componenti non facciamo tutto buttato qui quali componenti facciamo? Belli esami e righe esame. Mi piace, sì. Poi? Solo due? Potremmo fare un po' di più, secondo me. Ma cella forse un po' eccessivo, nel senso che poi le celle sono o di testo, o di data, o di lettere, quindi cella magari no. Può avere senso avere questa invece come cella, come tipo di componente, non so, examro control, visto che sono sempre uguali per tutti, almeno evitiamo tutte le volte di fare copia e incolla dell'icone. Questo può avere senso. T-head e t-buddy? No. Non tanto, secondo me no, nel senso che T-head rimane statico nella tabella, quindi forse dedicargli un componente intero è un po' ridondante, in quanto non cambia mai. Si potrebbe, si potrebbe, per carità. Però, dato che rimane statico, fisso, non cambia, può anche non aver senso, può anche essere lasciato nel componente della tabella. E il t-buddy ovviamente avrà, se lasciamo il t-head nel componente della tabella, anche l'inizio del t-buddy sarà nel componente della tabella. Ecco, mettere il t-head nel componente, in un componente è un po' come mettere il titolo, no? In un componente. Che si può fare? Magari lo facciamo per vedere un componente veramente banale, però, ecco, può aver senso se qui diventano i tuoi esami con scritto il nome di chi sei tu. Allora, in quel caso, varia da persona a persona, e allora, in quel caso, può avere veramente senso avere un componente specifico. Quindi, riassumiamo, abbiamo detto che possiamo fare un componente per la tabella. Possiamo fare componenti per le righe. Facciamo, partendo dallo spunto di Tommaso, un componente per le azioni, perché questi sono davvero sempre uguali, quindi evitiamo così di... Sono sempre uguali e poi magari hanno anche dei click sopra, quindi... E che sono sempre uguali anche loro, quindi magari ha senso per pensarli in un componente separato. E... E poi... Questo lo aggiungo io. Facciamo anche un componente per il titolo, per fare un componente piccolo in un file, ma solo come esempio. E poi lo aggiungo io, facciamo anche un componente più grosso, che contiene tutto. Non solo la tabella, ma che contiene proprio tutto il resto della pagina, quindi in questo caso il componente tabella con i suoi componenti riga. Quindi un componente container, diciamo così. Così abbiamo un componente in più su cui riflettere e su dove mettiamo lo stato. E allora facciamoli. Come facciamo un componente? E non facciamoli in app i componenti, perché li abbiamo già. Quindi creiamo... Allora, dove si creano i componenti? I componenti si creano in file, separati. Potete avere da... Non c'è un modo unico per organizzare la struttura delle cartelle e dei file. Potete avere tutti i componenti messi qui allo stesso livello di app. Potete avere una cartella che si chiama components, che contiene tutti i componenti custom che avete fatto voi. Potete avere cartelle che riguardano invece la logica, quello che volete fare. Quindi c'è il componente, c'è la cartella che si chiama exams, che contiene tutti i componenti che riguardano gli esami e anche cose che non sono componenti che riguardano gli esami. Strutture dati, modelli, altri metodi, eccetera. Quindi o raggrupparlo da un punto di vista di tipo, qui metto tutti i componenti, nella cartella componenti metto i componenti, quindi nella cartella modelli metti i modelli, eccetera, oppure raggrupparlo per logica. Quindi faccio la cartella esami e li metto tutto quello che riguarda gli esami, che siano componenti o che non siano componenti. Dove mettiamo i componenti? Al di là delle cartelle, li possiamo mettere o un file per ogni componente, da una parte, oppure dall'altra potremmo avere un unico file, tipo app, con dentro tutti i componenti. E ogni variazione che c'è nel mezzo può essere ovviamente ragionevole se motivata. Quindi, per fare un esempio, nel nostro caso facciamo due file soli, così è un pochino più comodo. Facciamo un file che è per il componente del titolo e facciamo un file che è per tutto il resto, quindi per tutta questa tabella. Così abbiamo, diciamo così, i componenti degli esami in un file e il componente del titolo in un altro file. E al momento creiamoli qui in src. Potremmo fare una cartella, anzi facciamo una cartella che si chiama components, e in cui andiamo a mettere i componenti che abbiamo creato noi, custom, ma non è obbligatorio. Quindi qui dentro creiamo, per esempio, un componente che si chiama apptitle.js, in cui andiamo a mettere il titolo. Così è facile. E questo provate a dettarmelo voi. Noi dobbiamo scrivere... Cosa scriviamo per il titolo? Cosa portiamo via da qua per il titolo? Da riga 25 a riga 29, da riga 26 a riga 28, su riga 27. 27-31 è un componente un po' strano. Perché vuoi prendere il chiusore del collo, non l'apertura, e poi l'apertura di table? Ok, nessun problema. Solo 27 è un'opzione. Qualcuno offre di più? Da 25 a 29? Da 25 a 29? Da 25 a 29? Io pure farei 25 a 29. Ok. Facciamo 25 a 29? Vi lancio... Allora, meglio 25 a 29 che 20... In realtà non è meglio, ma ragioniamo un attimo. 25 a 29, noi stiamo dicendo che tutta la riga che riguarda il titolo, che in questa... Se mi interessa modificare il raw e call, 25 a 29. Ecco, più che ci interessa modificare il raw e call, noi stiamo cercando di capire che cosa vogliamo spostare come componente. Quindi come un oggetto che può essere riutilizzato, se vogliamo, in altre parti della pagina e che magari sia anche appunto autocontenuto, self-contained. Quindi in questo caso è il titolo. Quindi 25 a 29 è un'opzione. Andiamo a fare un componente in cui, ecco, se noi qui oltre al titolo avessimo un sottotitolo, non ce l'abbiamo, ovviamente porteremmo tutto. E se noi oltre al titolo avessimo qualcos'altro, qui, non ce l'abbiamo, ma ipotezziamo di averlo, non lo so, dei bottoni, dei bottoni per qualcosa, per fare il login, per fare il logout, eccetera. Ovviamente prendendo 25 a 29, che adesso è diventato 30, porteremmo via anche i bottoni del login. E quindi diciamo che in questo caso un componente che si chiama, come abbiamo chiamato noi, uptitle, non sarebbe proprio totalmente ragionevole, no? Perché ci portiamo anche dietro dei bottoni che non hanno a che fare col titolo. In questo caso non li abbiamo, ma... Quindi l'altra scelta potrebbe essere portare via solo call, in modo che la struttura delle righe rimanga in app e di là ci portiamo via solo quello che riguarda il titolo. Non sto dicendo che 25 a 29 è sbagliato, infatti lo faremo, in questo caso è praticamente equivalente, ma sto dicendo se ci fosse qualcos'altro in quella stessa riga, cosa che è possibile, in un'applicazione più complessa, e portare via tutto, ci porterebbe via anche qualcosa che non è uptitle. E quindi non avremo un componente sul titolo, ma avremo un componente sul titolo e altra roba random che è in quella riga. Dall'altra parte, e poi rispondo alla domanda, dall'altra parte H1 è un pochino troppo limitato come componente, nel senso che se ci fosse uno stile di call che viene realizzato da H1, se ci fossero le proprietà qua, queste sarebbero realizzate dal componente specifico che dipendono dal titolo, quindi almeno il contenito, per come fatto bootstrap, container, raw e call, il modo di funzionare di bootstrap, la struttura, container, raw e dentro il raw una call, e poi eventualmente nel container un'altra raw, il tagliare, se non possiamo tagliare a raw, perché c'è altra roba, almeno tagliare a call. Però adesso tagliamo pure a raw, non è un problema. Avrebbe senso aggiungere un container al componente così non dipendere dal container di app? Tu mi dici praticamente nel componente aggiungeresti un altro container, capisco bene. Così? Non qui, ma così. Così? Allora, secondo me in questo caso non avrebbe senso, perché avremo un container con un altro container, che non è proprio la cosa ottimale per bootstrap. Tu dici, noi mettiamo un container di là, così è tutto autocontenuto, sì, se tu prevedi di usare il componente da tante altre parti e di continuare ad usare bootstrap da tante altre parti che app non sia un container, perché a questo punto app non deve essere un container, perché se no un container dentro un container non è proprio corretto per bootstrap. Se fosse un div potrebbe aver senso, però poi abbiamo un altro container. Insomma, per bootstrap non avrebbe tanto senso avere ogni elemento con un suo container. Ma il più problema è per bootstrap e non in generale. In questo caso per bootstrap un container con dentro un container con un container a fianco non è proprio l'atteso di bootstrap. Ma, vi ripeto, è più dipendente dal framework da come è strutturato. Adesso stiamo usando bootstrap, quindi usiamo quello. Quindi, dobbiamo spostare questo, abbiamo detto, vogliamo spostare questo. Va bene, quindi, cosa facciamo di qui? Dettatemi, facciamo un componente. cosa scriviamo in un componente? Questo è breve, quindi possiamo farlo mettando. Poi gli altri magari no. E questo in realtà è un componente che potremmo anche quasi non fare, perché è un componente molto semplice. Però lo facciamo anche per un po' di esercizio. Function, uptitle, benissimo. Return. Grazie, righe copiate. Sono d'accordo. Adesso vado a copiare la riga. Grazie. E uptitle con la T, giustamente. Non tile. Ok. Poi cosa dobbiamo fare? Ancora due cose ci mancano. In questo file. Questo è giusto. Ci manca una sopra e una sotto. Import. Import di che? Ed export. Sì. Import di cosa? No, React non serve. Import React non serve. Dalla React 17 tutti i componenti importano automaticamente React. Quindi non serve più scriverlo. E dato che noi siamo 17.02 non è un problema. Raw e call, giusto? Quindi import raw e call from React bootstrap che era già stato installato ovviamente, se no non avrebbe funzionato neanche all'inizio. Bootstrap e se no avrebbe errore e poi qualcuno diceva export. Export cosa? default. Perfetto. Tanto c'è ne uno solo. App title con la T. Allora, salviamo e a questo punto qui possiamo scrivere app title scritto corretto stavolta, magari. e poi dopo scrivere app title cosa dobbiamo fare? Cioè se abbiamo così funziona? No, la props del titolo non serve perché il titolo è statico. Importarlo, è certo, l'abbiamo esportato, dobbiamo sempre importarlo. quindi qui import app title tanto è quello di default from e diciamo dov'è. L'abbiamo messo in components quindi components slash app title Allora, se salviamo e facciamo partire questo, in teoria non dovrebbe cambiare niente rispetto a quello che già vediamo. Esatto, perché abbiamo solo spostato niente. Non abbiamo props da passare perché il titolo non cambia, è statico, Infatti non dipende da niente. benissimo, ora non andiamo a dettare l'altro ma facciamo un altro file che contiene tutti i componenti della tabella ma anche per un po' per velocità o un po' perché così li teniamo insieme in un certo senso e lo chiamiamo exam components punto javascript e app title in realtà la possiamo chiudere perché tanto non ci serve più ad un patto eccetera exam component che abbiamo detto proviamo a tenere in questo exam component il componente principale che contiene tutto in questo caso tutto è la tabella ma facciamo finta che immaginiamo che a un certo punto ci sia anche un bottone per aggiungere una riga un esame e quindi poi un conforme per aggiungere un esame quindi il resto della pagina diciamo così che riguarda gli esami però sempre non che riguarda altre cose e poi la tabella e poi la riga e poi questi bottoni qui di azione allora in questo caso cosa esportiamo cosa portiamo via per la tabella per esempio per la tabella e i suoi figli diciamo così sì non farei un come dicevo prima eviterei di fare un componente per l'intersezione della tabella perché è un po' cosa che rimane statico è un po' come il titolo in realtà cosa che rimane statico e non è che ci serve davvero gestirlo in maniera separata quindi va bene fare componenti piccoli ma forse non esageriamo poi è tutto motivabile è tutto ragionabile però visto che quello non cambia mai il T-add non andiamo a fare ogni riga un componente se no non finiamo più poi anche soprattutto exam component sarebbe l'intera tabella per noi o solo il body ecco exam component io ci metterei tutto questo qua escluso raw stavolta escluso raw perché vi anticipo che a un certo punto aggiungeremo qualcosa dopo la tabella e quindi raw lasciamo di qua quindi qui scriveremo così poi chiudiamo app exam components e questo questo file l'abbiamo messo in un file ma potremmo anche avere un file che si chiama exam non exam component ma chiamiamolo diversamente chiamiamolo score potremmo perché rappresenta lo score perché exam components in realtà è un contenitore di componenti facciamolo così ma in modo magari più corretto sarebbe avere un file con dentro exam scores un altro file con dentro la tabella o magari nello stesso di exam scores un file sicuramente con la riga della tabella e magari con la cella perché la riga e la cella possono essere fortemente collegate ovviamente in quanto se cambi la riga è difficile che la cella non la cambi potremmo avere per esempio appunto un file che si chiama exam table o exam scores dove c'è questo exam scores che andiamo a fare questo exam table exam scores è solo un componente contenitore e la tabella e poi magari un altro file dovremmo la riga e la cella che abbiamo detto che vogliamo provare a mettere in un componente questa cella dell'azione che rimane sempre uguale e anzi ha delle proprietà caratteristiche che sono quelle di essere cliccabile che cambia da riga a riga ovviamente quindi potremmo anche avere questi due file in questo momento facciamo in un unico file con tutto dentro e fatemelo anche importare anche se non l'abbiamo ancora fatto quindi import exam scores from punto slash components slash exam components anche per vedere che non è obbligatorio chiamare file come componente dato che in questo in questo file ci sono più componenti possiamo per esempio chiamare file diversamente allora salviamo ci darà errore ma non importa perché non abbiamo ancora creato niente allora in exam component cosa mettiamo abbiamo esportato questo importato questo exam score e allora facciamo questo exam score questo exam score cosa ritornerà all'exam score qui manca il call giusto? c'è una riga manca il call o l'ho cancellato per sbaglio o non l'ho messo quindi dato che bootstrap mettiamo anche call ok sarebbe più corretto anche con call ok quindi cosa mettiamo in exam score? beh in exam score mettiamo tutto questo pezzo la tabella con la colonna che che lo contiene quindi qui facciamo return al momento scriviamo così e mettiamo tutto questo che ovviamente non ci sta cambiando niente ma perché stiamo ancora avendo una roba abbastanza complicata ma almeno dovrebbe ecco mettiamo anche l'export in fondo così almeno funziona export exam default anzi così facciamo non il default exam scores così vediamo che possiamo anche crearlo noi non è necessariamente solo che ce lo dà bootstrap poi ci dà ancora tutta una serie di errori perché ovviamente mancano tutte le cose di bootstrap no? quindi dobbiamo fare import cosa c'è qui? call table direi basta perché ti add ti body tr non sono niente di particolare from react bootstrap e poi dobbiamo anche importare le icone che lo possiamo prendere da app eccole qua queste icone qui che adesso non ci sono più di qua importate usate quindi possiamo copiare questa riga tagliare questa riga e andare a metterla qui e poi però adesso l'abbiamo messa in una cartella quindi così ok e qui possiamo togliere call e table perché non ci sono più ok ci siete o sì andiamo avanti ok allora adesso abbiamo tutto l'exam scorso ovviamente non vogliamo buttare tutto dentro l'exam scorso ma perché abbiamo detto vogliamo fare un componente anche per la tabella e allora facciamo un componente della tabella che come prima function exam table manteniamo l'inglese per ora non preoccupiamoci delle props per ora poi ovviamente ce ne preoccuperemo exam table che cosa fa exam table beh fa return è di della tabella vera e propria quindi qui praticamente abbiamo solo lasciamo solo le colonne è proprio un container stupido e qui dentro ci mettiamo la tabella e quindi qui possiamo usare il componente exam table e andiamo avanti così cosa ci serve dopo exam table ci serve la riga dell'esame quindi andiamo ancora sotto e scriviamo function exam raw senza spazio e function exam raw ecco tornerà la singola e per cui dobbiamo per forza inserire le props perché se no non ci funziona più tornerà la singola riga e poi ancora abbiamo detto che facciamo anche quest'ultima cella come componente quindi function e lo chiamiamo come lo chiamiamo raw control e anche in questo caso torniamo torniamo solo questo torniamo all'ultima cella e quindi qui possiamo usare raw control poi volendo potremmo anche fare che exam raw si può dividere in due componenti raw data e raw control in cui qua ci sono tutte le informazioni in dato ma lasciamolo anche così è abbastanza corto da poter gestire tutto e perché può aver senso dividerlo in raw e raw data perché così manteniamo separato diciamo così un componente per la parte estetica la riga come appare la riga il fatto che ci siano quattro celle e infatti c'è un tr quantomeno magari ha delle proprietà e i dati che sono poi da mettere in quel tr quindi se volete facciamo un componente sul tr è un componente per tutti i td però possiamo anche lasciare così non è un grosso è ragionevole anche avere così quindi vedete per la creazione dei componenti come state vedendo non è che c'è un modo perfettamente giusto è un modo perfettamente sbagliato come in molte cose in programmazione avrete mai imparato ma ci sono dei modi che sono dei ragionamenti da fare che si possono fare che possono essere discutibili però se c'è un ragionamento alla base per cui dice ok faccio un componente sulla riga perché è piccolino è autocontenuto e comunque non può esistere un td senza un tr e allora tanto vale le tengo insieme può essere una buona scelta l'altra buona scelta equivalente secondo me è avere un componente sulla riga che ha solo il tr e poi avere un componente con tutti i td e chiamarlo data però per dire ok il tr è separato dal td per cui se il tr avesse delle proprietà di grafica almeno non verrebbe a toccare il componente di informazione che è contenuto in quella riga quindi se volessimo farlo dovremmo fare una funzione che si chiama exam rho data per esempio in cui andremmo mettere all'interno ecco facciamolo perché è carino andiamo a mettere all'interno questo e poi qui scriviamo a questo punto exam rho data l'ho voluto fare perché volevo chiedervi quindi non è esattamente necessario potevamo anche acciarlo come era ma perché ci dà errore esatto bisogna aggiungere esatto deve essere un singolo elemento quindi se noi aggiungiamo questo e lo andiamo a chiudere qui sotto questo è un elemento che con lo di prima react fragment che non viene poi renderizzato in html ma serve giusto per contenere e togliere appunto eventuali errori ripeto non è potremmo lasciarlo lì ma visto che ci così usevamo anche questo fragment in questo caso per vedere com'era no a questo punto questo si può semplificare molto perché alla fine non abbiamo più le parentesi ok quindi abbiamo creato diciamo così la struttura dati ma ovviamente ne abbiamo ancora tutta la tabella scritta così in statica e invece quello che vorremmo fare è dopo il t-buddy essenzialmente buttare via tutto perché le righe le fa quest'altra funzione e chiamare exam row data scusate exam row ho tolto troppo la chiusura del t-buddy deve rimanere ovviamente e ovviamente no non vogliamo farlo solo con i dati che abbiamo scritto qui vogliamo farlo con tutti i dati che abbiamo scritto in quel fake exams e quindi a questo punto dobbiamo propagare delle props siete d'accordo? quindi per esempio exam row data riceverà sicuramente delle props che saranno props.exam name per esempio props.exam score poi se non vanno bene le modifichiamo e props.exam.date visto che score poi ci dà errore ma ovviamente visto che tutti questi dati lo score la data erano in questo oggetto fake exam immaginiamo che rimangano in questo oggetto exam e anche qui ovviamente passeremo delle props che andremo a passare sotto quindi qui avremo un exam perché è tutto questo che equivalerà alle props che riceveviamo da qualcuno punto exam e poi avremo anche un exam name perché è questa props che prendiamo da qui sotto che sarà uguale una props che riceveremo dal padre dalla tabella che si chiamerà props.exam name ecco fatemi spostare questo row control qua sopra così almeno li teniamo separati dati veri e propri dai controlli che sono uguali per tutti però ovviamente adesso non possiamo continuare ad andare su perché non spero più cosa avrà questa props quindi partiamo dall'alto e vediamo che cosa passiamo come props allora a chi passiamo le props a up title o exam score a exam score giustamente e che props passiamo e passiamo tutti e due passiamo 6 esami in una props che chiamiamo exam così questo fake lo perdiamo e quindi passiamo fake exams che contiene tutti i nostri esami questi qui e poi passiamo anche un'altra props che chiamiamo courses in cui passiamo l'altro ecco qua eh sì senza la virgola poi lasciate perdere che d'errore ancora ma perché non abbiamo ancora propagato le props dappertutto ok a questo punto in exam score qui riceveremo delle props che possiamo passare a exam table quindi exam uguale possiamo passarli identiche no a prima props punto exams e courses props punto courses le continuiamo a passare perché tanto qui a lui non servono servono la tabella alla tabella riceverà delle props quindi anche qui mettiamo props nel parametro e la tabella dove ci servono le props qui per generare exam row quindi cosa vuol dire generare exam row vuol dire che apriamo una graffa perché stiamo contenendo del codice javascript e scriviamo props punto exam perché lo prendiamo dalla props che arriva e dobbiamo per ognuna scusate punto map perché per ognuna di questi esami dobbiamo creare una riga come abbiamo fatto prima per i bottoni e map di eggs che sta per esame e quindi per ognuno creiamo un exam row creiamo un exam row che a sua volta di cosa ha bisogno ha bisogno di una proprietà che si chiama exam exam uguale a x poi ha bisogno di abbiamo detto una proprietà che si chiama exam name che adesso andiamo a calcolare perché dobbiamo recuperarla da corsi ma in base al al nome dell'esame al dd dell'esame quindi adesso andiamo a scriverla e poi che cosa ha bisogno ancora ha bisogno di un terzo attributo score date no perché sono dentro exam e le andiamo a prendere da exam punto score exam punto date quindi le data ce le abbiamo qua e abbiamo bisogno di tenere il nome separatamente perché il nome non è qui dentro qui non abbiamo il nome abbiamo il codice lo score e la data ci manca il nome quindi per il nome dobbiamo gestirlo separatamente ma il resto è tutto dentro questo exam quindi non è un problema ci manca chi ci manca chi perché questa è una collezione di oggetti è una lista sono tante righe una tabella e quindi ognuna può essere cancellata modificata indipendentemente dall'altra quindi ci manca chi cosa metteremo in chi per esempio qualcosa di univoco il codice del corso che abbiamo chiamato cod vero e a questo punto andiamo a scrivere il codice per questo nome potremmo fare così props.corsi per usare un po' di funzionale ancora di programmazione funzionale potremmo usare filter quindi andiamo a filtrare da tutti i corsi il corso il cui codice corrisponde al codice dell'esame quindi otteniamo un nuovo array se ricordate da filter con all'interno solo gli esami il cui codice del corso sono i corsi con cui il codice del corso equivale al codice dell'esame che stiamo visualizzando a schermo perché è una mappa e stiamo ciclando uno alla volta però questo è un array quindi ci serve solo il primo elemento intanto c'è uno solo e a quel punto non ci serve tutto l'array perché il codice ce l'abbiamo già ci basta il nome quindi ripeto filter su corsi si prende tutti i corsi ci dà un array di tutti i corsi il cui codice del corso corrisponde al codice dell'esame che stiamo visualizzando che noi sappiamo essere uno solo perché il corso il codice univoco e name a quel punto è l'attributo name perché non ci serve l'attributo code in quanto ce l'abbiamo già da esami punte virgola niente punte virgola scherzavo domanda mettere come chi l'index della rigola è sbagliato no non è sbagliato a chi deve essere univoco rispetto alla collezione se tu riesci a avere un id della riga che riesci a incrementare sempre in maniera coerente senza scrivere 1, 2, 3, 4 ovviamente ma riesci a calcolare o riesci ad avere da qualche parte si può anche mettere l'index della riga diciamo che se questi esami arrivassero da un database probabilmente magari avresti anche un id della tabella della tabella del database dato che in un momento non ci sono l'altra alternativa è mettere il codice d'esame che è sicuramente univoco all'interno della tabella sì, si potrebbe fare anche x-index sì per avere l'indice per avere un indice che non è di riga è quello dell'array ma si potrebbe anche fare x-index quindi qui scrivere x-index e come abbiamo fatto prima per i bottoni e avere l'indice dell'array che nel nostro caso è quello della riga sì però noi abbiamo già un codice univoco tanto vale usare anche quello però potrebbe anche essere un'alternativa sicuramente l'importante è che all'interno della tabella quello sia univoco poi che sia l'indice dell'array ossia la chiave del corso sono entrambi univoci quindi entrambi vanno bene così almeno usiamo anche tra l'altro usiamo sto code visto che nella tabella non lo riportiamo quindi va bene quindi a questo punto dovrebbe funzionare in teoria giusto perché qui facciamo un map e creiamo tanti exam row con exam che si chiama così e la prendiamo dalla props però per qualche motivo non arriva lì questo si chiama exam giusto? sì sì fatemi spostare sto qui sopra tanto non ci serve non c'è non c'è importante quindi le parentesi sono giuste sì bella cosa abbiamo combinato che oggetto? non sono validi come array come pigli allora fatemi vedere se ho dimenticato qualche pezzo ma exam scores ha delle props che riceve da sopra il problema è iniziato quando abbiamo aggiunto questo pezzo giusto? ah sì lo stoppato sì il problema è iniziato quando abbiamo aggiunto quel pezzo quindi cosa c'è in quel pezzo che non mi piace? se ho andato anche per errori ah facendo lezione 11 e mezzo allora l'errore non è molto utile direi per capire qual è il problema però quale può essere il problema? dunque fin lì funzionava quindi qualcosa che deve fare con questi per forza fatemi importare dei jds che non so mai che che manca quello e non vero o no? però perché lo importiamo già prima infatti purtroppo non è che questo errore sia molto utile messo così allora che sia un problema con le props fatemi scusate proviamo a mettere lo stato in un posto dove potrebbe essere ragionevole metterlo quindi qui e proviamo a usare lo stato non dovrebbe cambiare molto e quindi a quel punto possiamo usare exams no ok quindi non è anche quello quindi questo è un po' Se qualcuno vede qualcosa che non deve essere fatto e che ho fatto e ha un'idea, lo dica. Dici? Allora basta fare così. Può darsi. Allora formattiamolo, tanto lo avremmo formatato lo stesso. Giorno a giorno, mese a mese, anno a anno a anno. Sì. Giustamente, sì. Mancava il two string. Lui cercava di visualizzare dentro una tabella un oggetto vero e proprio e il campo date ha giustamente dei campi in second dollar e quindi bisogna renderlo una stringa. Grazie per il suggerimento, Renzo. Stavo guardando nel posto sbagliato. Tanto qui ci serviva a visualizzarlo. Come stringa non ci interessava prendere l'oggetto date. L'altro modo per uno... Poi ci sono questi errori un po' nascosti. L'altro modo era non usare DJS di là e usare DJS solo qui per formattarlo. Però... Comunque, ok. Era un problema di formattazione. Quindi sì, ricordiamoci, ma anch'io, che quello che deve essere qui deve essere un qualcosa, soprattutto se dentro un TD, deve essere un qualcosa che sia... è che il codice JavaScript valido, ma ovviamente un oggetto DJS è un codice JavaScript valido, ma essendo detto un TD, è un qualcosa che deve essere poi visualizzato a schermo. Quindi un DJS o richiede un toString, oppure richiede un format per formattare correttamente la data. Ok. Ora... Abbiamo passato le props di tutto e abbiamo generato la tabella. Ok? Quindi... Avete domande finora? Dentro le graffe si può mettere una sola riga di codice? No, anche di più se vuoi, in teoria. Cioè se facessi così puoi scrivessi const... C è uguale a 1. No, si mettono solo le righe di codice perché è un'espressione JavaScript, non è... È una singola espressione JavaScript, quindi puoi avere più righe di codice e metti più graffe. Perché di nuovo React è pensato soprattutto per visualizzare cosa a schermo, no? Quindi non tanto per avere logica back-end. Per cui tutti i metodi funzionali ci sono molto comodi, tipo map. Dicevo, domande fin qui sul passaggio di props? Quanto meno abbiamo passato le props dalla cima fino ai figli, tutti i figli che hanno bisogno. Andando a prenderla dove le cose ci servivano. Non ho capito dove viene alla fine utilizzata, cosa serve e chi. Allora, chi viene utilizzata... L'abbiamo detto solo all'inizio della lezione dell'ora scorsa. Chi viene utilizzata da React, a noi non serve un tubo di niente, viene utilizzata da React per sapere che questa è una collezione che deve... Che è una collezione che ha ovviamente delle righe, degli elementi che sono separati l'uno dall'altro, e chi viene utilizzato quando viene fatto il re-rendering per aiutare React a sapere che è cambiata una certa riga identificata in maniera univoca all'interno di quella singola collezione e quindi andare a fare un re-rendering più preciso o avere meno errori durante il re-rendering. È un supporto che è una cosa che noi mettiamo per aiutare React. Poi non è passata come props, vive solo qui. Si definisce e poi dopo non possiamo neanche passarla come props. E quindi rimane solo lì, non la vediamo dal figlio. Quindi ogni volta che avete una collezione di oggetti da visualizzare a schermo, ogni volta che c'è, quando è necessaria, tutte le volte che c'è una collezione di oggetti, una lista di oggetti, quattro bottoni di prima c'era chi, adesso che c'è una tabella, ci sono quattro righe della tabella diverse che sono generate automaticamente c'è chi. Ogni volta che c'è qualcosa, c'è una collezione di oggetti generata automaticamente, ordinata o non ordinata, quindi ricronata bella, quattro bottoni, to-do list, ogni volta che c'è una collezione di qualcosa, c'è uguale a chi, che è generata automaticamente. Se l'ha generata a mano e non deve essere toccato, ovviamente no. Ora, in tutto questo, noi per ora abbiamo gli esami in una props, io prima per provare a vedere se era quello il problema, ho aggiunto lo stato qui, ma la domanda è, dato che questi, tutti questi, senza le azioni, ma tutti questi possono essere modificati, perché noi potremmo attivare l'azione del cestino e quindi cancellare la riga, quindi modificare questo, adesso che essendo in una props non possiamo farlo, perché le props non sono modificabili, possiamo solo visualizzarla, se dobbiamo modificarla, dobbiamo metterla nello stato, necessariamente. Dove mettiamo questo stato? Sicuramente non nella riga, non nel componente riga, o nei componenti sotto, possiamo metterlo o in exam table, o in exam score, o in app, addirittura. Dove, secondo voi, potremmo metterlo? Al di là di quello che vi ho fatto vedere io, che era una prova al volo. In app, in exam scores, o in exam table? Sotto non ha senso. In app, perché è sempre meglio averlo più in alto possibile. Altre opzioni. Table, minimo privilegio, che è esattamente l'opposto di in app, perché è sempre meglio averlo più in alto possibile. exam scores e me ne vedi mezzo, siamo molti diplomatici, giustamente. In realtà, no, sono tutte e tre risposte ragionibili. Al di là, vabbè, da sempre a me ne vedi mezzo, che non è una motivazione forte, no? Però exam table, perché è minimo privilegio, in un certo senso, sopra, nella nostra applicazione attuale, quantomeno, sopra exam table, non serve. Perché le informazioni sull'esame servono qui, essenzialmente. Quindi, si serve in exam table. Il contenitore, che contiene altra roba, non sappiamo cosa contarrà, ma al momento non contiene altra roba, quindi, in teoria, exam table, sembra il primo posto in cui alziamo, in cui eleviamo lo stato, in cui può aver senso avere lo stato. Potrebbe anche aver senso averlo in exam score, giustamente. Perché? Perché magari, al momento, al momento non tanto, in realtà, non tanto senso. Però, se noi avessimo qui un form per aggiungere un esame, beh, allora, dobbiamo aggiungere un esame, quindi forse avrebbe senso, e se il form è fuori da exam table, quindi è qui, in questa parte bianca, avessimo un form all'interno di exam score, ma non in exam table, allora avrebbe senso che lo stato fosse in exam score. Perché, ovviamente, lui, per aggiungere un esame, deve manipolare quello stato lì. Non deve leggerlo, ma deve sicuramente usare una callback di qualcuno che gli passa. E allora, se exam table non è il padre di questo form, e di questo form, beh, allora è difficile che gli possa passare una props. Allora, una props con lo stato gliela può passare solo il exam score. Quindi, exam score è un'altra, se avessimo qualcos'altro, che poi a un certo punto avremmo, sarebbe un'altra ottima idea, sicuramente. E poi c'è l'opzione di default, che è quella che spesso capita, come dice Tommaso, app. Anche in app avrebbe senso avere lo stato. Adesso forse è un pochino esagerato averla in app, perché se noi immaginiamo sempre, adesso in questo momento esatto non cambia niente averla in app, in exam score o in exam table. Il posto più, in questo momento esatto, il posto forse più ragionevole è exam table, perché è il più in alto che serve. Il più in alto di exam table non serve la lista degli esami, non serve modificare la lista degli esami. Quindi, in questo momento esatto, per la nostra interfaccia, per la nostra applicazione, exam table sembra il posto più ragionevole per mantenere lo stato sugli esami, perché exam table è l'unico che può visualizzarlo e fare qualcosa su quegli esami. Quindi, io la metterei lì adesso. Però, per dire, exam scores, può aver senso avere lo stato in exam scores e non exam table se avessimo qualcos'altro dentro exam scores che dipende, che deve manipolare questo stato, deve leggerlo, deve chiamare delle callback per aggiungere un esame, per esempio. Potrebbe avere senso, in questo momento è difficile immaginarlo, ma potrebbe aver senso anche in app se per esempio avessimo due pagine, una pagina con gli esami e una pagina con i corsi, due app all'interno, due pagine all'interno di React, ovviamente, due tab, diciamo, una con gli esami e una con i corsi e allora a quel punto lo stato sugli esami che contengono anche i corsi allora potrebbe essere utile entrambi i tab e allora potrebbe aver senso averla in app. Questi sono tutti i ragionamenti logici nella versione attuale il posto a minimo privilegio, sono d'accordo, è exam table dove l'avevo messa io, quasi, non per caso, ma l'avevo messa io. Quindi mettiamolo qui e facciamo lo stato. Quindi const, usiamo useState come abbiamo fatto prima per i bottoni. Exams perché noi adesso nella props avremo tutti gli esami, quindi facciamo uno stato facile che si chiama exams che contiene tutti gli esami e poi set exams e poi useState e inizializziamo useState con il contenuto di exams dalla props. e a quel punto possiamo cancellare qui props da dove c'è questa map e la mappa farla sullo stato. Quindi per visualizzare lo stato non cambia tantissimo, ma perché tanto era solo per visualizzare. Ora, usiamo questo set state per fare qualcosa, abilitiamo questo bottone cancella. Quindi questo bottone cancella è qui sotto, sul delete potremmo mettere uno span, per esempio, e mettere long click come vi ho fatto prima passando un arrow function che chiami un metodo che prendiamo dalla props come vi ho fatto prima per i bottoni che si potrebbe chiamare delete exam perché cancella un esame e quale esame cancelliamo? Beh, props.exam.code perché quando premiamo questo bottone vogliamo cancellare questo esame e quando premiamo il quarto bottone vogliamo cancellare web application non vogliamo cancellarlo in una casa. Quindi avremo un metodo da qualche parte che cancella il singolo esame che viene passato adesso ovviamente da errore perché questa non esiste che viene passato da dove viene passato row control qui quindi a row control dobbiamo passare una props che si chiama delete exam come abbiamo fatto prima per i bottoni che a sua volta arriverà da prima ancora props.delete exam e questa è exam row e quindi sarà passata qui in exam row una delete exam uguale un metodo delete exam che adesso andiamo a creare qui. Come prima potevamo chiaramente mettere un arrow function direttamente qui e passarla ma facciamolo separatamente così rimane più pulito quindi questa è di nuovo un arrow function che prende il codice del corso quello che viene ottenuto dal bottone è un arrow function quindi bisogna scriverla come un arrow function e cosa facciamo qui? Dobbiamo chiamare set exams e attenzione abbiamo due problemi abbiamo un problema e un punto di attenzione il problema è che set exams modifica gli interi esami e noi invece ne stiamo cancellando uno solo quindi dobbiamo fare la differenza da tutti gli esami e quello che stiamo cancellando e dato che in questo caso stiamo manipolando il valore precedente dello stato dobbiamo usare set exam non passando direttamente una variabile ma passando una callback un arrow function quindi di nuovo dove questo è exams gli esami attualmente presenti e quindi possiamo fare exams di nuovo punto filter vogliamo togliere l'esame che abbiamo cancellato quindi possiamo filtrare tutti gli esami dove il il codice del corso è diverso da quello che è arrivato dal dal parametro e qui bisogna aggiungere props ovviamente allora a questo punto se noi per esempio cancelliamo software engineering perché abbiamo preso 18 e non ci piace ci dà errore cannot read property code of undefined perché non abbiamo passato no perché non abbiamo passato la props semplicemente l'abbiamo passata exam rodata quindi props punto exam exam era passata a rodata non a rod control quindi lui giustamente non poteva leggere questa props quindi facciamo anche aggiorniamo riproviamo cancelliamo software engineering e vabbè e a quel punto la lista degli esami non funziona exam exam code è diverso dal codice che arriva qui allora rifacciamo il giro questo però sette exams questo sono lo stato attuale filtriamo va bene per un disegraffo non ci serve in realtà filtriamo il singolo esame ex code è diverso dal codice dimentichiamo tutti gli esami in cui ex code è diverso dal codice sì ok poi qui passiamo sia exam potremmo anche passare direttamente code qui non è un problema ma passiamo direttamente code props.exam.code e qui facciamo direttamente props.exam.code ma non cambia niente e a quel punto delete exam e qui chiamiamo il delete exam che è questo e l'exam.code che è questo poi c'è l'icona e poi c'è ok software engineer mi piaceva a quanto pare no va bene non so cosa ho cambiato per farlo funzionare ma ho tolto le graffe da qualche parte solo giusto? non qui qui no non mi ricordo dove erano le graffe ma in ogni caso in ogni caso va bene no? quindi quando abbiamo premiamo questo lui lui chiama questa callback e cancella il singolo esame e restituisce lo stato con tutti gli esami tranne quello che è stato aggiunto poi mi riguarda il video per capire che cosa ho tolto ho tolto le graffe da qui forse no ho tolto le graffe ma non mi ricordo da dove ah da qui ma non cambia niente giusto? e invece si va bene ok cerco di valutare questo come espressione a quanto pare si il code che arrivava a comprare la funzione era proprio un exam no perché qui era exam e poi passò a props.exam e quindi qui avevo props.exam.code e doveva funzionare lo stesso era un problema di quelle graffe lì sopra su filter che per essere un arrow function non dovrebbe avere problemi ma a quanto pare probabilmente a React cercherà di interpretarla come statement in javascript quindi come le sue parentesi graffe e quindi da problemi no il code appunto come dicevo era prima prima era exam senza code con props.exam e quindi qui prendevamo props.exam.code ma visto che non ci serviva l'intero oggetto esame per cancellarlo ci bastava il codice si possiamo anche passare il codice ok quindi questo abbiamo rifatto quello che abbiamo fatto prima con bottoni con una cosa un pochino più complicata perché invece di prendere l'indice e il bottone qui dobbiamo prendere la collezione e usiamo questa callback perché ovviamente dobbiamo manipolare lo stato precedente degli esami se noi facciamo refresh dato che i dati sono presi sono scritti incollati qui dentro e sono passati come props ovviamente tutto ritorna nello stato iniziale quindi è solo temporanea la cancellazione della riga ovviamente è tutto nel browser ecco negli ultimi minuto e poi basta no perché non l'ho installato volevo farvi vedere il il tool per ispezionare un oggetto react ma mi sa che non l'ho ancora installato pensavo di averlo installato lo installo poi la prossima volta lo guardiamo insieme un attimo il tool è lo strumento lo sviluppatore per esplorare react nel codice come in questo caso così vi fa vedere i componenti e quant'altro domande mentre aspetto varie domande lunedì c'è il secondo pezzo del lab del big lab 1 che vi chiederà essenzialmente di fare quello che abbiamo fatto adesso con react score quindi di dividere i vostri componenti il vostro super mega progettone in app in tanti componenti in maniera un po' ragionata passare le props quindi avere l'equivalente di fake exam per la to do list passare le props ed eventualmente iniziare a pensare dove potrebbe esserci lo stato anche se non dovete aggiungere ancora interattività ma iniziare a pensare dove potrebbe essere lo stato quindi se nell'equivalente del nostro exam table nell'exam score oppure nel nostro equivalente dell'exam score se lo creerete o nell'app o in qualcos'altro e il vostro è un pochino più complesso perché c'è anche la barra di navigazione in alto quindi può avere qualche aspetto diverso ok dicevamo domande ok se non ci sono domande faccio vedere domande può fare vedere velocemente il codice della function row control questo è un td con un'icona uno span con il click per cancellare e poi l'icona del delete chiuso span chiuso td questo codice esatto comunque lo carico adesso appena finita la lezione su ibitab così comunque la vede ok allora stoppo la registrazione vi auguro a tutti una buona giornata un buon fine settimana visto che siamo quasi in delettura d'arrivo e ci rivediamo giovedì prossimo buona giornata arrivederci vi auguro a tutti vi auguro a tutti vi auguro a tutti